Buongiorno, benvenuti a questa serie di oggi, 14 agosto. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Il tema che avrebbe dovuto impegnare tutti i giornali di oggi sono le indagini nei confronti di mezzo governo, compreso l'avviso di garanzia a Conte. Lo troverete soltanto sul giornale Libero e sulla Verità. Per il resto dei giornali si tratta, incredibile, Corriere la Sera, una notiziola con indagini su Conte di mezzo rigo che vedi in un occhiello, in sostanza è inesistente. Allora, vedete, quello che io penso l'ho scritto sul sito nicolaporro.it, lo vedrete, è scritto da amata, cioè che non penso che il centrodestra debba minimamente pensare di cavalcare questa minchiata perché non si risolve con questioni giudiziarie un governo di incapace e cialtroni. E anzi, non si commettono gli errori che hanno fatto gli altri nell'attaccare centrodestra, Salvini e compagnia cantante. Però francamente si tratta di una notizia, anche per criticarla io me la sarei aspettata sui giornali. Niente sui giornali, non c'è niente tranne su questi tre giornali. Su questi vi segnalo, insomma, intanto l'idea del giornale che è piuttosto simile alla mia, sbagliato però processare, ma beffa per i giustizialisti, dice il giornale. Cioè tutti quelli che dicevano che il sospetto è l'anticamera della verità, tutti quelli che dicevano che ci si dimette con le indagini, eccetera, con gli avvisi di garanzia, beh, sono tutti scomparsi perché quando riguarda loro ovviamente sono scomparsi. Belpietro ovviamente ha una posizione simile e a questo aggiunge non succederà nulla perché i PM hanno già detto si archivia tutto, fantastico quando si parla di Conte e compagnia cantante sono tutti contenti, ma il punto fondamentale dice che quando la politica ha deciso di utilizzare i magistrati per fare un atto politico come quello di Salvini e mandarlo a processo a Catania, beh, insomma, adesso dovrebbe aspettarsi la stessa cosa sulla gestione della pandemia. E questo non ha nessun torto, Belpietro, nel dire perché anche quello della politica dell'immigrazione di Salvini era un atto politico, un po' come quello che è stato fatto nella pandemia. Però su quello si va a processo e quello fa l'eroe, giustamente, in Sicilia. E invece questi dicono ho agito in scienza e coscienza, che sembra veramente il Marchese del Grillo, tutti zitti e muti a fare pippa, i giornali internazionali non se ne occuperanno, perché il cortocircuito è sempre quello. Se i giornali internazionali non vedono sul Corriere Repubblica la notizia dell'avviso di garanzia di Conte, cosa succede? Si interrompe immediatamente il circuito malizioso nei confronti dell'Italia, non ne appaiono sul Corriere Repubblica, i giornali internazionali con i loro corrispondenti un po' pigri in Italia non leggono sul Corriere Repubblica, non finisce sui giornali internazionali, e non finendo sui giornali internazionali, i giornali italiani non potranno dire che figure di merda sui giornali internazionali che loro stessi hanno creato. Esattamente la procedura che valsa nei confronti di Salvini, di Berlusconi, di tutti quelli che hanno seguito per il minimo avviso di garanzia le aperture su tutti quanti i giornali, perché Berlusconi nel 1994 l'avviso di garanzia all'Organizzazione della Criminalità Mondiale, perché lui era il capo dei criminali, non è uscito quell'avviso di garanzia sul Corriere della Sera in prima pagina e fece l'inizio del declino internazionale di Berlusconi e di quel governo, però in quel caso, poi archiviato ovviamente, però in questo caso il Corriere della Sera non degna neanche mezza riga, perché si tratta di Conte e il clima è completamente diverso. Nel frattempo, altra vicenda ridicola, e questa sempre invece in quella sì che gli è piaciuto al Corriere della Casta, e cioè del bonus 600 euro. Hanno beccato i due leghisti, adesso anche il grillino Marco Rizzone, si è casino nei confronti di questo grillino. Oggi è audizione di tridico al Senato, perché dovrà dire come mai, come mai, su un milione di persone che hanno preso questo bonus, ne sono uscite cinque, che fanno anche i parlamentari, che è una cosa piuttosto singolare, perché vuol dire andarli a cercare uno per uno, e dovrebbero cercarli per una cosa che loro hanno fatto legittimamente. Può non piacere, può far schifo, ma queste tre persone, anzi cinque, per cui due le hanno richieste e non le hanno ottenute, queste cinque persone, che cosa hanno fatto di illegale? Ce l'ha spiegato Nordio, zero. E perché l'Inps queste cose le ha date? Per utilizzarle come strumento politico, per quella merda di idea, per cui attraverso lo scandalo si possano distruggere e si possono affermare delle idee, tipo quella del referendum, che ha queste idee fantastiche, riduciamo i parlamentari, così non abbiamo più il bonus di 100 euro, una roba da pazzi, voteranno contro Tridico, il centrodestra, e pensate un po' voi Renzi, toc toc, qualcuno di voi crede veramente che Renzi porterà fino in fondo questa battaglia? Io no, poi vedremo. Nel frattempo i titoli invece dei giornali principali sono su un'altra cosa pazzesca italiana. Ieri eravamo arrivati, due giorni fa, il problema dei giovani. Poi i giovani vanno all'estero, poi i giovani vengono in Italia dall'estero, poi si chiudono i confronti dei paesi esteri. Sia chiaro, non lo fa solo l'Italia, perché anche la Gran Bretagna, chiuso nei confronti di Malta, Croazia, eccetera, è una febbre collettiva. Ma noi siamo un po' più pippe degli altri, perché abbiamo Speranza, Arcuri, Tridico, e Mimmo Parisi. Questi qua che poi raccontano e fanno i decreti, e poi però i decreti qualcuno li deve rispettare. Quel povelazzo della polizia o degli aeroporti di Roma che dovranno fare i test, e se i test non ce l'hanno, come fanno a fare i test a quelli che tornano dalla Grecia e dalla Croazia? Non li fanno. Difatti il titolo oggi del Corriere della Sera, il giornale più allarmista del mondo, è mancano i kit. Cioè questi ci hanno fatto la legge, ma non ci sono i kit. E allora leggo su tutti quanti i giornali, sapete cosa succede? Quello che esattamente si prevedeva, cioè in un paese in cui gli arresti diventano non domiciliari e non fatti per legge, ma fatti per decreto di PCM. Quindi io vado in Grecia, magari non vado manco un giorno in discoteca, mi trovo in un'isoletta greca, farmi i cazzi miei in un'isoletta, in una casetta fuori da tutte le rotture di balle. Non becco neanche quelli che beccherei a Gaeta o a Formia, come scrive bene Ivan Mazzoletti sul mio sito, leggetevelo, la sua cronaca di Formentera rispetto alla sua cronaca di Gaeta. Bene, mi trovo in un'isoletta greca, ritorno in Italia, perché me ne vado in un'isoletta greca, posso ancora andare in un'isoletta greca? Cioè, amiamo l'Europa, poi ci incazziamo se uno fa un viaggio in Grecia? Beh, vabbè, andiamo in Grecia, ritorniamo dalla Grecia, arrivi in Italia, non c'hanno il kit e che ti dicono? Eh, non c'ho il kit, allora stai a casa finché non ti faccio il tampone. Vi è chiaro? Stai a casa finché non ti faccio il tampone. E mi sembra che il track record dei tamponi in Italia non è stato proprio di quelli eccellenti, ne facciamo 50-60 mila al giorno, comunque dove ci sono i focolai. E quindi questo cosa vuol dire? Che stai agli arresti domiciliari. L'ha deciso un giudice? L'ha deciso un magistrato? L'ha deciso una sentenza? L'ha deciso una malattia? No, l'ha deciso la nostra cialtroneria per cui tu ti troverai agli arresti domiciliari per due giorni, tre giorni, un mese, venti giorni, cinque giorni, tre ore, perché c'è un'inefficienza. Però loro titolano sui giornali, così si sconfigge il virus. Poi vai a leggere dei 520 casi su cui tutti quanti stiamo qua drammatizzando, sapete quanti sono i positivi? Il 10%, pochissimi. L'altra sera dal mio amico Luca Tadese e da David Parenzo arriva il grandissimo, come si chiama, virologo veneto che dice siamo tutti qua in emergenza, sono ritornati i giovani e le terapie intensive, zero. Cioè stiamo parlando che in terapia intensiva ci sono quelli di due mesi fa, di tre mesi fa e che non sono ancora in terapia intensiva e mi auguro non ci saranno mai. Però dobbiamo creare l'allarme. Quindi il titolo del Fatto Quotidiano è Weekend con il Morbo. Il weekend non è stato fatto con il Morbo ma con il morto che non deriva dal Morbo ma dalle auto, derivano dai tumori, derivano dagli infarti, derivano da tante altre malattie, derivano dalle auto che cadono ai precipizi per vedere le stelle. Ripeto, evitiamo di vedere le stelle. Facciamo un bel DPCM per cui se vedi le stelle devi essere arrestato. il fatto poi ci dice che ci sono 925 focolai. Il giornale del virus, Corri della Sera, dice che ci sono 225. Mettetevi d'accordo perché ancora non ho capito quanto sono questi focolai. Ma poi se ci sono 925 focolai e 500 o 1500 in una settimana vuol dire che per ogni focolaio c'è un malato che non è neanche un malato perché è un positivo. Quindi noi stiamo drammatizzando i focolai che fanno due positivi e i due positivi peraltro c'è una grande possibilità che non si ammalino per niente. Beh, io la trovo straordinaria. Disco nel mirino del governo. Il ministro Boccia dice fino ad agosto ballate e poi dopo agosto potete fare quello che facciamo in lockdown. Ringraziamo il ministro Boccia perché fino abbiamo ancora una sera per ballare dove poi lo sa solo il cielo. Ricolfi oggi quello che mi dà del negazionista invece ha la sua solita posizione che per fortuna la scioltroneria italiana cioè noi non abbiamo la capacità tedesca quella di risolvere e seguire tutte le regole se no saremmo fottuti. Però Ricolfi ha buon ragione quando dice beh ragazzi in realtà ve la prendete tanto coi giovani ma se non fate rispettare le regole se non date delle regole chiare se fate tutto sto casino ma come fanno i giovani a rispettare qualche cosa che non conoscono? Bene questo è sul fronte della come si chiama della pandemia però lì c'è la grande storia di Arcuri Arcuri del commissario l'abbiamo lasciato buono e poi finalmente Sole 24 ore e Luciano Capone sul foglio se ne occupano di questa famosa gara per 2,4 milioni di banchi tutto contento intervista dell'Azzolina a cui nessuno è riuscito a fare una domanda per dire arriveranno i banchi 2,4 milioni di banchi che arrivano nel giro di 20 giorni bisogna produrli e farli arrivare in tutte le scuole di 8 mila comuni italiani compresa Pantelleria e compresa non lo so le cicladi non lo so se c'è una scuola là beh è chiaro che è una presa per i fondelli mostruosa questi 2,4 milioni finalmente dice altro che gara deserta sono arrivate 11 offerte di aziende dice Arcuri e Capone il Sole 24 ore dicono toc toc ma caro commissario ma che sta a dire intanto dici quali sono queste aziende e non si sanno intanto hai fatto una cosa che non esiste cioè hai allungato il bando per 5 giorni e soprattutto hai chiesto alle aziende di consegnare queste cose ai primi di settembre perché la scuola inizia al 14 e poi quando si sono presentate le aziende mettendo l'impossibilità di poterle consegnare in quel giorno hai detto eh vabbè anche se le consegni a ottobre ma come anche se le consegni a ottobre ma un bando è un bando cioè va bene derogare qualsiasi legge ma allora fai un affidamento diretto vieni tu qua vieni tu qua e vieni tu qua che secondo me si può anche fare cioè non mi scandalizzo per l'affidamento diretto ma se fai un bando e scrivi che devono essere consegnati dell'8 settembre partecipano delle persone che ti dicono guarda che fino all'8 settembre non riusciamo a farle e te l'avevano detto tutti te le porto a ottobre o novembre e tu poi dopo dopo che hai finito il bando e hai accettato questi 11 dici beh vabbè porta l'ottobre o novembre ma ragazzi ma questo com'è ma come la chiamate sta roba qua del commissari ma manco Falco la pensava una cosa di questo tipo nel frattempo oggi il PD diventa l'alleato del Movimento 5 Stelle mi spiego meglio sulla piattaforma Russo lo scrivono tutti quanti i giornali cosa succederà che oggi dovranno votare gli 80.000 delle vecchie storie dovranno votare per dire se sono d'accordo che possono avere i grillini il terzo mandato e che ci si possa fare un'alleanza col PD perché ci si è dimenticati che il Movimento 5 Stelle non voleva fare le alleanze tant'è che Repubblica oggi dice nelle marche potranno andare PD e Movimento 5 Stelle con lo stesso governatore insomma la paura che possa vincere la destra unisce PD e Movimento 5 Stelle ma c'è un piccolo particolare e il particolare è che non Babbo Natale ma nel blog delle stelle lo ricordo oggi il Corriere della Sera c'è la foto di Casaleggio e Grillo che dicono ragazzi non si potrà mai derogare al secondo mandato e oggi ovviamente Di Maio dice sì lo dobbiamo fare e soprattutto la linea la dà straordinaria il loro cantore la gensiglia Stefani cioè Travaglio che dice due segni di maturità e di crescita oltre che di realismo cioè allearsi col PD il partito che loro definivano di Pimpiano e fare il terzo mandato cioè la casta loro nascono su questo è un segno di maturità e di crescita vabbè può essere anche verosimile quello che dice Travaglio siamo però basiti e qui c'è l'attacco dei tempi e dei modi del referendum che fa Casaleggio cioè se la prende con Casaleggio e Lombardi avete capito cioè Travaglio non solo il cantore di Conte ma se la prende con quelli che vorrebbero lo spirito originario che sono Casaleggio oh ma questo non è un portavoce è molto meglio di un portavoce perché l'agenzia Stefani diceva quello che diceva il Duce no questo è il vero ideatore del Movimento 5 Stelle è fantastico cioè parliamoci chiaro il partito di Travaglio è come quello di Scalf e gli piace lo capisco stanno lì vanno alla barchetta e pensano cosa deve fare e poi la cosa stupenda è che il sospetto non è nei confronti più degli avvisi di garanzia ma il sospetto è che Casaleggio faccia votare solo i trinaricciuti contrari al terzo mandato allora a me va bene tutto ma va bene ma che adesso i grillini che l'hanno votati sul parola onestà onestà non siamo la casta non ci alleiamo col PD e che continuino a pensarlo anche oggi vengano definiti da Travaglio dei trinaricciuti ma va benissimo siamo tutti d'accordo fra un po' troverò la possibilità di una giornata in cui vedrò che il russo vorrà il Movimento 5 Stelle allearsi con Berlusconi ma vale tutto vale tutto a questo punto nel frattempo ci sono altre due notiziette diciamo un'altra notizia importantissima cioè l'accordo Israele Emirati Arabi è importantissima perché dice Parsi dopo l'Egitto e la Giordania le relazioni in Medio Oriente si stanno sono state ristabilite e quindi quello che abbiamo visto è un accordo storico che Fiammanire sta sul giornale e dice toc toc dice così Fiammanire sta proprio toc toc guardate che forse qua Trump quella pippa che voi considerate una pippa in realtà qualche cosa è riuscita a fare perché la firma è merito suo poi i palestinesi sono i veri perdenti invece giornali tipo il manifesto mettono bene in evidenza ultima questione per gli appassionati della vela beh è la storia straordinaria di My Song la nave di quella barca di 40 metri a vela di loro piana che è andata a fondo in un trasbordo tra i Caraibi e Genova una cosa straordinaria parla a loro piano e dice ragazzi su Corriere della Sera un'intervista direi piuttosto interessante da leggere ragazzi mi avete affondato la barca mo me la pagate 30 milioni a questi inglesi per cui inizierà la causa tra poco a Milano notizia estiva insomma alla fine non viviamo soltanto di Conte e soprattutto ragazzi di Agenzia Stefani fatevi un sorriso perché qua se no con le mascherine dobbiamo soltanto piangere ciao